Sì, benvenuti a Spettacolomania, come sei? Sono bene, grazie. Allora, l'importanza di questo connubio tra musica e cinema è l'emozione di celebrare il primo film e concerto dopo 40 anni, di 40 anni fa. L'importanza di questa combinazione tra musica e cinema è l'emozione, che sensazioni hai in celebrare il primo film e concerto dopo 40 anni fa? Well, first of all, it's so wonderful to see the restoration and have, in a way, it's never looked better, and it sounds best. Now that there is new technology to, you know, capture what it, you know, the first film, the first time you show it, because it wears away, and so now every theatre will have that beautiful look. I think the color, actually, is more well balanced than it was in the original, and I think the music for the multi-channel systems that I worked very hard on with many very talented people, it's, it's, you have, you can close your eyes and pick out little details that was a little more difficult in the past, so I couldn't be happier. Potrei essere più felice, perché ovviamente la possibilità di consentire, grazie alle nuove tecnologie che sono state messe in atto, anche da un punto di vista di colore, di avere una maggiore uniformità, di consentire a tutte le sale di poter vedere le immagini veramente belle, e poi la musica, la musica che, con grazie a questa possibilità di bilanciamento, tu puoi chiudere gli occhi e cogliere i dettagli esattamente come erano così durante il concerto. Prima volta a Roma, first time in Roma, do you like our town? Well, it's not my first time, but yes, I like Rome very much. I think the light is so wonderful here, you can just see the way the, in the buildings, the size of how far things stick out from the windows is, from what the direction, where it is near the equator, but it's just, it's beautiful, and of course you have, you know, architecture that goes back thousands of years, so such variety, it's amazing. Beh, non è la prima volta a Roma, però la cosa bella è la luce che si può percepire e vedere in questa città, che ovviamente colpisce e fa risaltare gli edifici in una maniera molto particolare, è riconsiderato anche il fatto che l'architettura risale a migliaia e migliaia di anni fa, quindi è molto bello e molto particolare. Grazie mille.